Nove nuovi tamponi risultati positivi al coronavirus. A comunicarlo la Task Force della Protezione Civile della Regione Campania. Nella sola giornata di ieri sono stati esaminati in laboratorio al centro di riferimento dell'ospedale Cotugno oltre 70 tamponi. I nove positivi per i quali si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità si aggiungono ai quattro casi già accertati sul territorio campano. Dunque salgono a 13 i casi così suddivisi sul territorio. Nove in provincia di Napoli, due in provincia di Caserta, uno in provincia di Benevento ed uno in provincia di Salerno. A fare il punto della situazione in tarda mattinata è il governatore Vincenzo De Luca. Per quanto riguarda il caso che abbiamo registrato nel Cilento, anche qui si tratta di una paziente di nazionalità ucraina tecnica di laboratorio impegnata nell'ospedale di Cremona dove abbiamo ad oggi credo una ottantina di ricoveri di cittadini contagiati. Ora io credo che se un pensionato, un cittadino normale, un libero pensatore, un esperto di filosofia teoretica può essere meno consapevole. Un tecnico di laboratorio che lavora in un ospedale credo che la consapevolezza piena ce l'abbia, debba averla. E quindi debba mettere in campo comportamenti di responsabilità, oltre che nei confronti di se stesso, nei confronti della propria comunità. Noi abbiamo dovuto ricostruire poi tutto il sistema di contatti avuti da questo soggetto. Abbiamo dovuto individuare l'autista del pullman che ha guidato l'autobus fino a Vallo Scalo. I cinque viaggiatori che erano presenti su quel pullman nel viaggio dalla stazione di Salerno a Vallo Scalo. Abbiamo avvertito le ferrovie dello Stato per segnalare la freccia rossa utilizzata dal paziente, la carrozza ferroviaria nella quale era presente la paziente. Abbiamo dovuto ovviamente individuare tutti i familiari. Vi ho spiegato queste cose per farvi qualche esempio, per dirvi semplicemente questo. Primo spiegarvi nella maniera più semplice possibile qual è il lavoro che poi viene scaricato sui reparti di prevenzione che abbiamo nelle nostre ASL. I responsabili della prevenzione poi hanno il compito di andare a ricostruire la catena, individuare i singoli cittadini, verificare i contatti che ognuno ha avuto, cioè cercare di fare il lavoro di contenimento del contagio. E questo è il lavoro che viene fatto.